A Teramo, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale Bartur ha annunciato la disdetta degli accordi aziendali dal prossimo primo aprile. Questo a causa dei costi lievitati per il caro gasolio e per la diminuzione del numero dei passeggeri nel periodo della pandemia da Covid, con ricavi scesi del 50%, ma anche a causa della disparità di trattamento rispetto alla società di trasporto pubblico regionale TUA. Una decisione che se confermata porterebbe alla riduzione degli stipendi ai dipendenti, ma anche minori servizi per i cittadini. L'azienda ci ha inviato una nota con la quale in modo unilaterale ci ha detto che dal primo di aprile disdetterà tutti gli accordi aziendali di secondo livello. Noi riteniamo che sia un atteggiamento scorretto, riteniamo inaccettabile che l'azienda si comporti in questo modo, perché a pagare non possono essere i lavoratori quando se le responsabilità vanno imputate ad altri. Per questo motivo i segretari della Filt CGL, Fit CISL, UGL e Faisa CIS all'Abruzzo a stretto giro incontreranno l'azienda per discutere delle decisioni assunte. Nei prossimi giorni incontreremo l'azienda, chiederemo di ritirare quel provvedimento, tra l'altro chiederemo all'azienda di trovare le soluzioni altrove, perché se non ha trovato le soluzioni come denuncia l'azienda sulla regione, se non ha trovato le soluzioni in comune, perché in pratica ha chiesto sia alla regione per quanto riguarda l'adeguamento dei costi standard, al comune ha chiesto di aumentare il prezzo del biglietto, non può scaricare sui lavoratori, non può trovare sempre solitamente la soluzione sulla tasca dei lavoratori. È inaccettabile questo atteggiamento. Se non ci sarà una risposta adeguata da parte dell'azienda, siete pronti anche a manifestare, a scendere in piazza? Ma sicuramente faremo valere i nostri diritti, i diritti dei lavoratori, quindi con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, nessuno escluso.